Ormai dobbiamo renderci conto che comandano in Italia le due sorelle terribili, Giorgia presidente del Consiglio e Arianna che si occupa del partito. Poco tempo fa la Premier ha fatto fuori il compagno perché si era reso responsabile di comportamenti poco opportuni, adesso è la volta di Arianna che dice che non è più innamorata di Lollobrigida. Lollobrigida era il marito che è anche ministro. Probabilmente la carriera politica di Lollobrigida sta calando moltissimo e forse volge al termine. Dopo un periodo in cui eravamo abituati che solo gli uomini avevano cariche di governo e le donne erano un'eccezione, oggi invece abbiamo al comando queste due sorelle terribili. E' bene tenerne conto perché per alcuni anni ai vertici ci saranno sempre loro.